Ciao ragazzi e bentornati con The Milite 82 per un altro gameplay di gioco, caccia ai trofei. Riprendiamo dove ho lasciato ieri sera a LEGO Marvel Avengers. Ok perfetto, per chi non era disponibile ieri sera o non ha visto la diretta, ho praticamente finito tutte le missioni principali, ho finito le missioni secondarie e prendendo i trofei, quindi praticamente stasera mi rimarrebbe da fare solo il clean dei trofei rimanenti. Quindi se mi seguite vi faccio vedere passo passo come si prendono i trofei restanti, siamo al 99,5, c'è uno 0,5 mancante che stranamente non ho trovato, quindi sarà anche caccia a questo 0,5 per poter prendere facendo il 100% anche un altro trofeo che anche qui poi vi spiegherò. Prima cerchiamo di trovare questo 0,5 mancante. Allora, a questo punto avendo preso tutti gli uomini, credo di avere una mezza idea di cosa potrebbe essere. Comunque, andiamo sul giocatore F, avevo preparato un omino, eccolo qua, con il Mjolnir di Torre, in teoria prendendo questo giocatore e utilizzandolo per giocare dovevo darmi un altro trofeo. Eccolo qui infatti. Bene. E questo è un altro, così me lo sono tolto. Quindi io devo trovare quelli del mare. Quindi di là. Poi ne ho detto che sia quello, però intanto ci proviamo. Non sono sicuro, eh. No. 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 Grazie a tutti. 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 Uno di questi giorni spaccherò io tutto e qualcun altro rimetterà a posto. Sì, sarà un bel giorno. Perché no? Perché no? Dovrei facendolo, beh, dovrebbe dare al volo. Forse appena tocco terra. Perché non me lo dà? Ok, devo solo cambiarlo, perfetto. Vandero... Vandral, Hogan e Volstagg. Non mi piace che si sia sentito minacciato dal nostro incontro, ma le salsicce non si possono usare come armi. E' successo qualcosa a Washington? Non è successo a New York, non è successo affatto. Che si chiamano? Che si chiamano? Tu si chiamano un po' di tempo. La Damage Control di Johannesburg avrà il suo bel da fare. Dove andrà? Eccola qua Ed ecco Altro trofeo Turo di dimenticatori Turo di dimenticatori Turo di dimenticatori Turo di dimenticatori Dei testimoni segnalano dei criminali a piede libero nella vostra zona Valutate cosa fare prima che la situazione ci sfugga di mano Turo di dimenticatori Turo di dimenticatori Dovebbe essere quella Deoria Turo di dimenticatori Turo di dimenticatori Quale cavolo è la torre del indicatore? No, no. No, no. Ancora qua, sono tornato. Oh, signor, che due coglioni. Allora, devo raggiungerlo, credo. Sì. 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 Le unità, c'è un truccone rubato che sfreccia per Manhattan a tutta vera. Molto piacere. Oh, che palle. Mi sa che queste sono quelle generiche. Ma qui non c'è. Quei coglioni. C'è un truccone. Perfetto. Perfetto. Seguiamo. Occhio di Falco. Quante palle. Quante palle. Quante palle. Quante palle. Quante palle. Grazie a Londra, Inghilterra. 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 Grazie a tutti. 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 Perfetto. a tutti. 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 C'è una cosa che puoi farmi morire, ecco. Era Soccovia, mi sembra, sì. Così faccio molto prima. Così, prendendo questo trofeo, prenderò anche il Vlatio. Proprio qui. Perfetto, e ora Vlatino. Direi perfetto, ragazzi. Altro gioco al 100%. Che dirvi, ragazzi. Vi ringrazio ancora per avermi seguito. Ci vediamo dopo, anzi, più tardi per un altro gameplay di gioco. Inizieremo un nuovo gioco di Lego. Come potete vedere, ce l'ho qui in mano. Lego DC Super Villains. Cioè, i cattivi dei... Cioè, che combattono contro i supereroi. Quindi, per una volta, si impersonificherà i cattivi del gioco. Grazie. A più tardi. Ciao.